ragazzi stasera non mancate live epicamente su fortnite anzi vi faccio solo vedere che riscatto lo zaino gratuito me lo riscatto proprio in questo video ragazzi non mancate stasera il momento che finisco a mangiare il pollo che mi arrivo a mangiare ecco qua vuoi dire? guardalo e poi faremo una live fino a che ora? fino a mezzanotte e poco Bruno? ma no Franci mezzanotte eccolo qua gratuito ragazzi lo proveremo pure questo zaino mezzanotte non mi piace non c'è di più di più sarà una live epica ragazzi fino a lunedì quindi ci vediamo tra poco mio fratello il tempo che mangia il pollo e insomma tra poco attivate la campanella perché saremo in live